Dalla sua chiusura datata 2017, Pesaro Studi riaprirà a settembre tornando a riabbracciare cinque anni dopo gli studenti universitari che sceglieranno di iscriversi a due innovativi corsi di laurea. Si tratta di due percorsi avanguardistici legati al campo dell'ingegneria e al mondo tecnologico. Sarà infatti presente il corso triennale di ingegneria per la sostenibilità industriale e il corso di laurea magistrale in lingua inglese Green Industrial Engineering, due percorsi che già contano 50 prescrizioni di studenti provenienti anche dall'estero e l'Università Politecnica delle Marche e l'Università Carlo Bo di Orbino, che insieme hanno dato vita a questo nuovo progetto, puntano sull'attrattività di temi avanguardistici. I due atenei che si mettono insieme collaborano con l'obiettivo di realizzare una strategia fondamentale che è la strategia di attrattività, perché se noi ragioniamo in termini di mantenimento vi assicuro non andiamo da nessuna parte. L'attrattività si fa se abbiamo corsi validi, efficaci e in lingua inglese. E noi abbiamo fatto questo, c'è un primo corso triennale particolarmente importante sui temi della sostenibilità, c'è un corso magistrale che continua il percorso in lingua inglese. Abbiamo già una cinquantina di prescrizioni dall'estero, il che è un risultato molto importante, bisognerà ragionare su cosa fare per realizzare questo, perché il problema non è solo far venire, ma organizzare un kit di assistenza integrata, ma su questo dobbiamo procedere. È un tentativo di trattenere sul territorio i giovani promettenti e quindi speriamo di riuscire in questo obiettivo. Questo era un po' l'idea, abbiamo notato che ci sono questi flussi di giovani verso altre regioni e quando vanno fuori spesso non rientrano, perché trovano opportunità di lavoro vicino alle sedi dove hanno studiato, quindi l'idea era di cercare di creare un'offerta formativa anche innovativa, che guarda gli aspetti energetici e ambientali, sperando di convincere appunto i giovani a rimanere qui e seguire questo tipo di formazione. Un risultato che è stato possibile ottenere anche grazie alla collaborazione del Comune di Pesaro, che potrà così godere di un rinvigorimento del Viale Trieste, visto che solitamente nel periodo invernale la frequentazione di quell'area si affievoliva. È la prima volta che due università si mettono insieme e potenziano sulla nostra città, quindi ne dobbiamo andare soddisfatti. Siamo molto contenti perché abbiamo avuto una richiesta da più parte del mondo, quindi arriveranno tanti ragazzi da non solo fuori Pesaro, ma anche fuori Italia, quindi ci stiamo organizzando per fare in modo di essere preparati ad accogliere questi ragazzi che arriveranno nella nostra città. Quindi ho contattato Erdis che si è reso subito disponibile, Lapa Hotel per appunto dare un contributo e un aiuto a fare alloggiare i ragazzi qui nella nostra città. Altra cosa importante, ho visto grande collaborazione da parte delle imprese del nostro territorio, perché oggi sono qui tutte presenti, perché collaborano a che questo progetto possa andare avanti. Grazie.